Pioggia di euro in arrivo dal PNRR sull'Asdorma 4, sono 27 i progetti firmati dalla direttrice Matranga per il territorio Ciputavecchia prevista una casa di comunità e centrali operative tecniche. Il cantiere della Mattonara al Bivio da una parte la possibilità di diventare polo della cantieristica di lusso dall'altra il ritorno nella disponibilità del demanio marittimo. Quella che si è appena conclusa è stata una settimana da dimenticare sul fronte covid e i casi sono tornati oltre le mille unità con un incremento dell'85% rispetto ai sette giorni precedenti. Sui fumi emessi dalla centrale di dolore Vardalica Nord interviene anche Palazzo del Pincio, il sindaco tedesco e il vice Magliani chiedono chiarezza sulla situazione ambientale e le emissioni. Doppia sconfitta per Margutta, Civitalad e Stamar 90, le rosso-blu sono state battute dalla Teatina in uno scontro diretto per la salvezza per i rossoneri che ha poi in casa della PAS. Ancora una buona serata e veniamo subito alla prima notizia. I fondi del PNRR alla Asle Roma 4. Il direttore generale della Asle Roma 4, appunto Cristina Matranga, ha firmato 27 progetti che riguardano i distretti 1 e 2 dell'azienda sanitaria che saranno presentati venerdì all'Aula Pucci alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato. Vediamo i particolari. Una pioggia di milioni di euro in arrivo dal PNRR sulla sanità dell'Asle Roma 4. Sono stati firmati nei giorni scorsi 27 studi di fattibilità relativi ai progetti finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riguardanti l'azienda sanitaria locale. A siglarli è stata il direttore generale Cristina Matranga, il direttore amministrativo Roberto Di Cicco e il direttore sanitario Carmela Matera. I progetti dei distretti 3 e 4 sono stati presentati lo scorso dicembre ad Anguillara, mentre quelli relativi al distretto 1 e 2, quindi Radispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia, Dolfa e Dallumiere, saranno presentati alla presenza dell'assessore regionale Alessio D'Amato venerdì prossimo alle 17 presso l'Aula Pucci all'interno di un convegno che vedrà la presenza di tutte le autorità del territorio. Non posso che ringraziare lo staff che si è dedicato a questa progettazione, afferma Matranga, ed in particolare il dottor Antonio Andreozzi, referente PNRR, l'ingegner Annalisa Bononati, gli architetti Claudia Crostella, Roberta Vannicola ed il geometra Romolo Cirilli e le altre risorse aziendali che hanno contribuito al grande lavoro realizzato in pochissime settimane. Un ringraziamento anche all'assessore D'Amato, all'ingegner Lerose e al suo staff per il grande lavoro di coordinamento profuso. Le nostre proposte progettuali daranno un nuovo volto alla sanità del nostro territorio. Ha concluso la DG. I 27 progetti finanziati con il PNRR si sono sommati agli altri due importanti progetti legati all'antisismica realizzati con fondi complementari al PNRR nonché alle misure di rinnovo del parco tecnologico aziendale. Si va dalla creazione di una casa di comunità Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Lumiere e Cerveteri alla realizzazione di ospedali di comunità Santa Marinella e Ladispoli passando per due centrali operative tecniche necessarie all'elaborazione e all'invio di dati a Civitavecchia e Cerveteri. Veniamo alla cronaca. Durante il weekend sono stati predisposti servizi straordinari di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia con particolare attenzione alle zone della Movida al fine di assicurare il rispetto delle norme per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e contrastare il fenomeno cosiddetto della mala Movida. Gli agenti del commissariato di Civitavecchia con l'ausilio delle pattuglie del reparto prevenzione crimine del Lazio hanno sottoposto a controllo 228 persone, 7 locali e 139 green pass. Sono state elevate 5 sanzioni amministrative di cui 4 per violazioni della normativa anti-Covid mentre al titolare di un minimarket è stata contestata la mancata fissione del cartello di chiusura del locale. Durante il servizio sono stati controllati 63 veicoli e 12 soggetti sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Sembra entrata nella fase decisiva l'annosa vicenda riguardante il cantiere ex privilege alla Mattonara. Nelle prossime ore si dovrebbe infatti chiarire se l'area sarà veramente destinata a diventare un polo della cantieristica di lusso tramite il passaggio di consegne fra la società Royalton e i nuovi soggetti oppure se la stessa tornerà a disposizione del demanio marittimo. Due scenari completamente diversi dunque come vediamo nel nostro servizio. Siamo alle ultime battute, ai fotogrammi finali di un film lunghissimo ed estenuante e paradossalmente non si sa ancora se ci sarà o meno il lieto fine. Nelle prossime ore dovrebbe consumarsi l'ennesimo atto conclusivo, mai dire mai, della vicenda riguardante il cantiere ex privilege. Una vicenda sulla quale dal 31 gennaio scorso, quando andava in scadenza all'ultimatum lanciato dall'autorità portuale alla Marine Goddess Royalton, è piombata una pesantissima coltre di silenzio. Silenzio assoluto da Molo Vespucci e mutismo totale, ma questa non è assolutamente una novità, sia da parte della società maltese che rischia di perdere la concessione con essa i circa 20 milioni di euro investiti quattro anni fa nell'operazione e sia da parte delle aziende della cantieristica di lusso interessate al subentro. Tutto tace e il silenzio può, come sempre succede, essere interpretato in tanti modi. Da qualche parte si sussurra che alla richiesta della Marine Goddess Royalton di avere l'ennesima proroga di un mese necessaria per poter portare a termine la trattativa di cessione del cantiere dello schelodro dello scafo P430, l'autorità ti abbia risposto in modo parzialmente positivo, dando non 30, ma 15 giorni di tempo. Tempo che dunque sarebbe scaduto. A conforto di questo sussurro, voci insistenti che parlano di una trattativa veramente arrivata, indirittura d'arrivo, con la società maltese più propensa a cedere, rimettendoci economicamente, ma almeno sicura di rientrare in parte dell'investimento iniziale. Gli unici problemi rimasti sul tappeto sarebbero soltanto di questioni tecnico-burocratiche e andrebbero a interessare la stessa concessione rilasciata il 29 luglio del 2009 dall'autorità portuale con scadenza 4 dicembre 2039. Altri bisbigli parlano invece di situazione assolutamente cristallizzata, con Moro Vespucci che sarebbe pronto, avvalendosi di quanto previsto dalla lettera A dell'articolo 47 del Codice della Navigazione, a decretare la decadenza della concessione. In quel caso il cantiere tornerebbe di proprietà del damanio marittimo e a scanso di clamorose sorprese, Civitavecchia potrebbe dopo 15 anni dire definitivamente addio al sogno della cantieristica. Ipotesi diverse dunque, con però un'unica sensazione, che la scena conclusiva del film sia in realtà tutta da scrivere, con la pellicola che potrebbe addirittura essere ancora più lunga. E passiamo all'inquinamento. Fare chiarezza in maniera scientifica sulla situazione ambientale a Civitavecchia, in particolare sul piano delle emissioni dovute alla produzione di energia elettrica. Questo l'obiettivo dell'iniziativa assunta dal sindaco tedesco e dal vicisindaco nella qualità di assessore all'ambiente Emanuele Magliani, alla luce degli episodi di grandi emissioni di fumo riscontrate la scorsa settimana dalla ciminiera della centrale di Torre Valdalica Nord. Tedesco e Magliani hanno inviato una lettera urgente ai Ministeri di Salute, Sviluppo Economico e Transizione Ecologica, all'assessorato regionale della Transizione Ecologica, all'ISPRA, all'AR Palazzo e all'ASL Roma 4. Nella missiva i vertici di Palazzo del Pincio giudicano lacunosa, generica ed irricevibile la giustificazione che i fumi altro non siano che vapore acqueo a fronte delle specifiche prescrizioni a carico del gestore. Sindaco e vicesindaco non mancano inoltre di ricordare che il territorio cui insiste Torre Nord è stato anche di recente in occasione di una procedura di via regionale classificato dalla ASL come territorio fortemente esposto a patologie tumurali a causa della presenza di molteplici fattori di pressione ambientale. Di qui la richiesta di ricevere dettagliate relazioni da parte dei soggetti deputati al controllo e monitoraggio delle attività della centrale con particolare risferimento all'ottemperanza delle prescrizioni nonché in ordine alle emissioni di fumi anomali registrate negli ultimi due mesi. Con riserva, conclude la lettera, di agire nelle sedi e nei modi consentiti dalla legge all'esito del riscontro. Non sono positivi i dati relativi al Covid della settimana che si è appena conclusa. Civitavecchia, dopo un periodo nel quale la curva dei contagi aveva iniziato a scendere vertiginosamente, si è infatti registrata una preoccupante inversione di tendenza che ha riportato il numero dei soggetti positivi sopra le mille unità. Contrariamente a quanto si avviene in altre realtà del Paese e della Regione, tutti gli indicatori sono in aumento. Ma a riguardo vediamo il nostro servizio. Una settimana difficile sul fronte Covid a Civitavecchia, assolutamente inaspettata, alla luce del vertiginoso calo dei contagi e conseguentemente del numero dei soggetti contemporaneamente positivi che si era registrata dall'inizio di febbraio. La settimana appena trascorsa è stata, clamorosamente, una delle peggiori da qualche mese a questa parte, avendo visto un'impennata di tutti i fattori negativi riguardanti il virus e riportando la città ad una situazione di grande apprezzione. Andando a compiere la consueta analisi settimanale, prendendo spunto la settimana che si era conclusa il 13 febbraio e quella che è terminata ieri, si riscontra che il numero dei soggetti complessivamente malati in città è salito addirittura dell'85%. Domenica 13 febbraio si contavano infatti 585 malati contemporaneamente, mentre ieri il numero delle persone che attualmente risultavano affette dal virus a Civitavecchia è salito a quota 1.082. Si è tornati praticamente ai livelli di inizio mese, quando stava iniziando la discesa dopo il boom di contagi che si era registrato tra la metà e la fine di gennaio. La città, che la scorsa settimana era diventata il terzo comune della Asla di Roma 4 come presenza di contagiati, superata da Cervetri e Ladispoli, adesso è tornata prevalentemente in testa, visto che le due località contano rispettivamente 571 e 506 soggetti positivi, praticamente la metà. Il dato diventa ancora più preoccupante se si va a vedere la giornata singola, con un numero di tamponi pressoché simili. Ieri è stato certificato un numero di nuovi soggetti contagiati pari a 81, mentre il 13 febbraio scorso erano stati comunicati solo 33 nuovi positivi. In questo caso l'aumento è stato pari al 142%. È sceso, viceversa, del 93,5% l'incremento dei guariti. Domenica 13 febbraio erano stati ben 173, mentre ieri ne sono stati certificati solamente 11. Difficile dire cosa possa esserci dietro questa imprevista risalita dei contagi in una fase che nel resto del paese e della stessa regione evidenzia una situazione assolutamente contraria. La crescita appare inspiegabile se si considera che non sono stati segnalati cluster, fatta eccezione per quello riguardante però soltanto 20 soggetti scoperto all'interno del carcere di Borgata Aurelia. E come detto continua ad aumentare il totale degli attuali contagiati a Civitavecchia. Questo quanto spiega il consueto report di Asle Roma 4 e Regione Lazio sul Covid, le persone attualmente positive sono 1186, vicine alla soglia dei 1200. Sono 34 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, mentre 11 sono le persone che hanno sconfitto il virus, dati ovviamente condizionati dal numero minore di tamponi processati di domenica. E intanto, restando sempre sul tema Covid, nelle scuole è stato potenziato il contact tracing a disposizione degli studenti. Si accede su prenotazione sulla piattaforma https.prenota-drive.regione.lazio.it slash main slash home con la tessera sanitaria e indicando l'istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri. Una fase di stanca fisiologica dopo i grandi numeri di fine 2021 e inizio 2022, il Lazio, leader per quanto riguarda la somministrazione del vaccino agli ultracinquantenni, registra al pari delle altre regioni italiane un momento di appannamento nella somministrazione dei sieri con gli hub vaccinali che non fanno più registrare numeri importanti. Complessivamente infatti si rimane ormai da giorni sugli stessi numeri. Stando alle informative diffuse ieri si è infatti superata quota 13 milioni e 100 mila vaccinati complessivi e sono state superate le 3,7 milioni di dosi booster effettuate con il 78% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia invece pediatrica, cioè dagli anni che vanno dai 5 agli 11, sono oltre 144 mila i bambini con prima dose pari al 38%. Numeri non molto diversi da quelli della scorsa settimana, nonostante gli hub vaccinali, siano ormai ad accesso libero negli orari di apertura per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione. L'unico elemento di novità che potrebbe favorire un nuovo incremento alle presenze negli hub sarebbe rappresentato dall'arrivo del siero Novavax, atteso soprattutto dei cosiddetti Novavax, la cui somministrazione sarebbe dovuta iniziare lo scorso 15 febbraio, ma del quale si sono perse le tracce. L'assessore regionale alla sanità D'Amato ha dato una sorta di ultimatum per la giornata di domani. Staremo a vedere. Agenti inquinanti ancora al palo a Civitavecchia è quanto emerge andando a leggere i dati riportati nel sesto report del 2022 relativo al periodo compreso fra il 7 e il 13 febbraio pubblicato sul sito istituzionale di Arpalazio attraverso l'analisi di dati raccolti quotidianamente dalle centraline presenti nel territorio urbano. Una leggera diminuzione si regista per quanto riguarda il particolato, mentre i biossidi di azoto sono in lieve risalita. Vediamo. Una leggera crescita da una parte e un'altrettanto leggera diminuzione da un'altra. La situazione ambientale a Civitavecchia, a differenza di quanto avveniva negli scorsi anni, soprattutto nel periodo pre-pandemia, continua a non far registrare particolari oscillazioni. Il report diffuso dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale sulla base dei dati forniti quotidianamente dalle centraline presenti in città e relativo al periodo compreso tra il 7 e il 13 febbraio, non si discosta di molto da quelli di gennaio e della prima settimana di febbraio. Tutti i valori certificati da Arpalazio restano al di sotto dei limiti di legge e ancora una volta risultano nettamente inferiori rispetto a quelli riscontrati in altre realtà della regione, in particolare in molte zone della capitale come Eurfermi e Corso Francia, dove sono addirittura doppi rispetto a quelli di Civitavecchia. Nello specifico, proprio per quanto concerne gli ossidi di azoto, nella centralina di via Morandi si è registrato una media di 39 microgrammi al metro cubo contro i 31 della settimana precedente. In via Roma si è passati da 77 a 80 microgrammi, a Villa Albani da 46 a 53 e al Porto da 42 a 46 microgrammi, valori come già accennato notevolmente al di sotto del livello di allarme che la legge è fissa a 200 microgrammi. Per quanto riguarda la media del particolato, ovvero delle polveri, è stata di 17 microgrammi al metro cubo al Porto contro i 20 della settimana precedente e di 23 microgrammi a Villa Albani, uno in meno di quella rilevata dal 31 gennaio al 6 febbraio. Nel caso del PM10 o particolato, la soglia di allarme scatta sopra i 50 microgrammi. Scende da 0,6 a 0,5 microgrammi il valore del benzene misurato nella sola centralina di Fiumaretta. In discesa anche il monossido di carbonio passato da 0,8 a 0,4 nel complesso della città è rimasto a 0,7 microgrammi in via Roma e a 1,1 microgrammi a Fiumaretta. Valori medie degli agenti inquinanti stabili anche nei quartieri. Per quanto riguarda i biossidi di azoto, il valore più basso è stato rilevato a Sant'Agostino con 8 microgrammi. Seguono Aurelia con 10, Faro con 13, Fiumaretta e Campo dell'Oro con 21 e San Gordiano con 24. Per quanto concerne invece il PM10, si va dai 12 microgrammi misurati ad Aurelia ai 13 di Sant'Agostino, ai 15 di Campo dell'Oro, ai 16 di Fiumaretta e 18 del Faro per finire poi con il 19 di San Gordiano. E passiamo alla politica. Le segreterie dei circoli del Partito Democratico di Civitavecchia, Lumiere, Santa Marinella e Tolfa riunite per valutare le iniziative rivolte a contrastare con efficace il progetto di biodigestore per il trattamento di 120.000 tonnellate di rifiuto umido in località Monna Felicità, Civitavecchia, vogliono richiamare l'attenzione su alcuni aspetti ritenuti rilevanti. Pensiamo, affermano i segretari Alessio Minerva, Amanati e Carminelli, che la battaglia in corso si possa vincere solo a condizione che scende in campo un fronte unito dal punto di vista politico ed istituzionale. Si chiede al Comune di Civitavecchia di assumersi sino in fondo le proprie responsabilità in quanto ente capofila dei comuni limitrofi e convocare una riunione con i rispettivi sindaci che abbia un carattere operativo finalizzata a costruire con l'apporto di tutti un tavolo tecnico di altissimo livello professionale che ci metta nelle condizioni di affrontare la battaglia qualora necessario anche sul piano giuridico. Ai signori delle PD chiediamo di indirizzare i loro melenzi comunicanti al gruppo consigliare del Partito Democratica della Regione Lazio. Basta che siano loro a dire di no e la questione si chiude su due piedi senza sedersi al tavolo. Che ce vò è la dura replica ai circoli del PD da parte della maggioranza secondo la quale quello dei dem è un tentativo maldestro di scaricare sugli altri la propria monumentale responsabilità politica sulle mega di gestore. I piccoli fans di Zingaretti, Valeriani e Ornelli piagnugolano su facili e sterili polemiche e strumentali ricerche di responsabilità attacca la maggioranza e poi partoriscono la proposta risolutiva, il tavolo tecnico. Così mentre la Regione Lazio avrà approvato il progetto noi staremo ancora al tavolo a discutere. Poi si va se a tavola avanza qualcosa la mettiamo nell'umido e la portiamo agli amici che ci fanno il gas per la centrale degli amici degli amici. Questa la risposta. Procede senza sosta anche la raccolta firme avviata dall'associazione Civitavecchia CE per scongiurare appunto il progetto del biodigestore. A Monna Felicita la petizione popolare ha superato le 2000 firme. L'annuncio arriva direttamente dall'organo presieduto da Roberto Merchiorri. È il momento di aumentare lo sforzo. Dichiarano da Civitavecchia CE. Dobbiamo superare quota 5000. Crediamo che con la collaborazione di tutti sarà possibile andare anche oltre. Ribadiamo il nostro forte no, forte no al biodigestore. E apriamo la pagina sportiva. Un pareggio che inizialmente sarebbe stato accolto con freddezza ma che per l'andamento della partita può essere accettato con un timido sorriso. Pareggio esterno per il Civitavecchia che fa 1 a 1 sul campo dell'Ottavia. L'undici di Massimo Castagnari è stato a lungo sotto nel punteggio dopo il gol firmato da Benedetti al 39esimo del primo tempo nonostante le numerose palle golle. I Denrazzurri alzano ulteriormente i giri del motore nella ripresa e riescono a riequilibrare la situazione a 15 minuti dal termine grazie al difensore Fatarella. Ben è servito da panico. In classifica il Civitavecchia scende a meno 8 dalla vetta della classifica. E veniamo alla pallavolo. Ancora una sconfitta. La quinta consecutiva per la Margutta Civitalad questa volta però il KO è nello scontro diretto di Nocciano contro la Teatina che vince per 3 a 1. Gara che si complica nei primi due sette che vengono conquistati dagli abruzzesi. Il primo con distacco evidente mentre nel secondo le rosso-blu riescono a tenere testa alle padrone di casa. Il 6 più 1 di Pietro Greci riapre i giochi nel terzo parziale riuscendo a mantenere la concentrazione giusta in un spicchio di gara chiuso ai vantaggi per 28 a 26. Ma la squadra di Chieti torna a fare la parte del Leone nel quarto set. La Teatina supera la Margutta in classifica che scivola al terzo-ultimo posto. Di buono c'è che i punti dalla zona salvezza restano 4 anche se Iesi ha una partita in meno. Si ferma anche l'Etruria Volley nel campionato di Serie C. A Tuscania i rosso-blu hanno ceduto per 3 a 0 al Rimi Cerveteri. E veniamo al basket. Terza sconfitta consecutiva lontano da casa per la Stemar 90 in Cigold. E' pesante stata la battuta d'arresto per i rossoneri che sono stati sconfitti addirittura per 90 a 75 sul campo della Pass. Match che inizia con ritmi indiavolati e ottime percentuali al tiro con i padroni di casa che si portano subito in vantaggio nel punteggio e non lo moleranno più. Per tutta la gara la squadra di Ferdinando Di Maria non riesce a limitare le percussioni di tiri soprattutto dall'arco da parte dei Romani. Inizialmente Gianvincenzi e Bottone tengono alta la bandiera rossonera, poi nel corso del terzo quarto la Pass affonda andando subito sulle più 10 e da lì non è stata più nessuna possibilità di ritorno per la Stemar. 90 la sconfitta tiene ancora in bilico la qualificazione alla fase ad oroggio dei Civitavecchiesi. E veniamo al calcio a 5. La lunga lista di assenti non ferma. La futsal Civitavecchia nel match all'Ivan lottatori valevole per la Serie C1. I neroazzurri hanno travolto per 6 a 0 il Real Fiumicino. Gara quasi sempre in mano per il quintetto di Simone Tangini che però solo nella seconda metà del primo tempo ha sbloccato la situazione chiudendo i conti ad inizio ripresa con due gol in un minuto. Decisamente scatenato Damiano Leone che è anche autore di una tripletta a cui si sono aggiunti i gol di Trappolini, Todaro e Lipparelli. Da segnalare la sconfitta della Pisana sul campo della Ranova che permette a neroazzurri di aumentare a 7 i punti di vantaggio sul terzo posto. Vediamo l'intervista. Damiano Leone, netta vittoria, clean sheet da parte della futsal Civitavecchia che sconfigge per 6 a 0 il Real Fiumicino. Una bella tripletta da parte tua, qui, patronista di questo successo. Sì, abbiamo giocato bene, ce l'avevamo preparata bene perché eravamo comunque con 6 under e tante assenze, però durante la settimana ci siamo allenati bene, abbiamo visto quali erano i punti deboli dell'andata che ci hanno portato a fare solo un punto e oggi siamo riusciti diciamo ad annullarli e questo ci ha portato alla vittoria e a rimanere comunque sempre in lasso nelle zone alte della classifica e sperare poi andando più avanti nei play-off. Il primo tempo qui siete andando in vantaggio nella seconda metà, proprio dalla prima frazione, al secondo tempo subito due falli ma proprio lì vi ha dato la carica giusta per fare due gol in un minuto e quindi praticamente chiudere la contesa. Sì, diciamo che il primo tempo alcune azioni potevano essere concluse prima e quindi andare più avanti con il risultato, poi siamo partiti un po' nervosi il secondo tempo perché magari non eravamo riusciti a chiuderla, però quei due gol nel giro di un minuto ci hanno portato ad essere più tranquilli e quindi a far rischiare più loro che noi e poi piano piano col portiere in movimento siamo riusciti ad annullarli e a fare due gol a porta vuota che ci hanno portato a vincere la partita. Quindi consolidate il secondo posto in classifica, ci credete di poter rimanere lì e lottare con il vertice? Sì, ci crediamo, dovrebbe aver perso la Pisana quindi dovremmo aver recuperato anche altri punti sulla terza e quindi stare con un buon margine di vantaggio, solo che ora ci aspettano dopo Valencia che comunque è sempre una sfida ostica, al campo loro un quartetto dove riusciremo a prendere i più punti possibili e lì già sapremo più o meno dove potremo arrivare a fine campionato. Ed ora passiamo ad una segnalazione che ci arriva da Via dell'Ottimo Consiglio. Un nostro telespettatore ci ha contattato per segnalare che al civico numero 5 la segnaletica orizzontale di un parcheggio riservato agli invalidi è completamente cancellata e quindi il posto viene sistematicamente occupato da altri mezzi che non posseggono il tagliando da esporre in questi casi. Con questa segnalazione si conclude il nostro telegiornale ma prima di salutarvi vi ricordo di rimanere sempre collegati e di seguirci sui nostri social, precisamente su Facebook, YouTube, Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it Per quanto mi riguarda è tutto, vi ringrazio per la gentile attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata.